Il 21 giugno 2023, una scoperta di estrema rilevanza ha scosso la città di Trieste e riaperto le indagini sul caso ancora irrisolto di Liliana Resinovic. La donna triestina, scomparsa misteriosamente e successivamente trovata morta a gennaio 2022 nei pressi di un ex ospedale psichiatrico della stessa città, è stata al centro di nuovi sviluppi grazie al ritrovamento di un frammento di catenina color oro, due blister di medicinali e un flaconcino di plastica. Questi oggetti, consumati dal freddo e dall'azione delle intemperie, sono stati rinvenuti ai piedi di un albero situato a pochi metri dal luogo in cui il corpo di Liliana fu trovato senza vita. L'inaspettato sviluppo delle indagini si è verificato durante una diretta televisiva trasmessa su Rai 2 nel pomeriggio di martedì, nel suggestivo boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Mentre le telecamere erano puntate sul terreno, sono state attratte dalla presenza di due confezioni di farmaci abbandonate tra l'erba. La scoperta ha immediatamente sollevato interrogativi sulla loro correlazione con il caso Liliana Resinovic, spingendo gli addetti a contattare la squadra mobile. Un'ora dopo la segnalazione, gli investigatori della polizia scientifica sono giunti sul luogo del ritrovamento, determinati a fare luce sulla misteriosa scoperta. Gli oggetti recuperati sono stati meticolosamente repertati e, secondo indiscrezioni, saranno sottoposti a dettagliati esami per individuare eventuali tracce di DNA. Tra gli elementi che hanno destato particolare interesse vi è anche un cordoncino rosso, che potrebbe essere un cavo elettrico o avere una diversa rilevanza nell'ambito delle indagini in corso. Le ipotesi e gli interrogativi che circondano questo nuovo sviluppo sono molteplici. Si sospetta che qualcuno abbia recentemente depositato quegli oggetti nel boschetto, ma l'identità del responsabile e le ragioni del loro abbandono rimangono sconosciute. La catenina color oro, in particolare, potrebbe rivelarsi un importante tassello nella risoluzione del caso, poiché potrebbe appartenere a uno dei braccialetti indossati da Liliana. Tuttavia, non è escluso che sia semplicemente un componente di una borsetta da donna, aumentando così l'incertezza sul suo significato nel contesto della vicenda. La città di Trieste è in trepidante attesa dei risultati degli accertamenti condotti dalla polizia scientifica, sperando che questi possano finalmente fornire risposte tanto attese su ciò che è accaduto a Liliana Resinovich. Le indagini in corso sono finalizzate a stabilire la datazione degli oggetti recuperati, al fine di determinare se il loro abbandono sia recente. Prima di concludere, vorremmo ringraziarti per la visione del nostro video e invitarti a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per ricevere aggiornamenti sulle ultime notizie e curiosità. Sarà un modo per rimanere sempre aggiornato su eventi di grande rilevanza come questo. Inoltre, apprezziamo molto i tuoi commenti e feedback, quindi non esitare a lasciare un commento qui sotto con la tua opinione. Grazie per il tuo supporto.